Si tratta di un talento che possiamo dirlo in anteprima, che concluderemo oggi un po' tutta la procedura di sottoscrizione dei contratti, quindi l'annuncio verrà fatto più tardi, lo sapete voi di TV12 in anticipo, che è un altro acquisto importante per la società, uno dei due centrocampisti che Gianani in conferenza stampa al Media Day aveva annunciato e quindi stiamo un po' rispettando anche quelli che erano i programmi tecnici. Le tempistiche dopo sono sempre legate al mercato, però stiamo lavorando direi molto bene. Jürgen Ekelenkamp è un nuovo giocatore bianconero, la conferma arriva dalla voce del direttore generale dell'Udinese Calcio Franco Collavino a testimonianza di un mercato che non si ferma per i bianconeri, un mercato che continua anche a guardare al futuro con colpi di prospettiva. È un ragazzo di talento, abbiamo visto anche di personalità, molto disinvolto, è un ragazzo che rientra negli acquisti tipici da Udinese, l'ho definito proprio un acquisto da Udinese perché alla pari anche dell'acquisto di Pizzarro direi che siamo sulla stessa linea. Un giocatore che si è messo bene in evidenza nell'ultimo campionato europeo Under-19, dove è stato anche premiato come miglior giocatore della finale e il giorno dopo era già a Udinese a fare le visite mediche. Paffundi in questo momento è in prestito fuori per avere qualche chance in più per poter giocare, per poter crescere e maturare, però nel momento in cui potesse ritornare a Udinese avrebbe senz'altro anche lui delle carte da potersi giocare all'interno del gruppo. Quindi siamo contenti dell'attività che abbiamo fatto finora, c'è ancora più di un mese di mercato per arrivare a conclusione, ma c'è anche un campionato alle porte, quindi stiamo accelerando un po' con tutte le operazioni. Torna così tanto entusiasmo in casa bianconera e lo testimoniano anche i numeri degli abbonamenti, che non verranno ancora svelati anche se il trend è molto positivo, con curiosità di capire come impatterà l'imminente ritorno in bianconero di Alexis Sanchez. Devo dirvi che il trend è assolutamente rispettabile in linea con quello delle passate stagioni e speriamo che con l'entusiasmo e con la passione che si avverte vicino all'Udinese i numeri possono essere ancora più importanti. Un numero che potrebbe crescere a dismisura se arrivasse Sanchez? È possibile, è possibile.